I piccoli negozi sono la vita del paese, compra nei piccoli negozi e dà vita al tuo paese. Con questo slogan, l'associazione Ascom Abruzzo, che si occupa di commercio, turismo e servizi, avvia una campagna di sensibilizzazione regionale per invogliare a spendere nei piccoli negozi. L'iniziativa è stata illustrata a Lanciano dal presidente di Ascom Abruzzo, Angelo Allegrino, presenti anche sindaci e amministratori di vari comuni. Allegrino suggerisce anche la creazione di aree no tax, zone franche urbane o zone a burocrazia zero, sgravi fiscali per i primi cinque anni di attività, esenzione dall'IRAP e dall'IMU. Ecco le motivazioni che hanno spinto a questa iniziativa. Le amministrazioni in generale, solo con qualche eccezione, non sono attenti alle esigenze di questa categoria e quindi sono lasciati all'abbandono senza attenzione e senza magari avere dei punti di riferimento nelle amministrazioni. Allora noi con questo progetto vogliamo fare in modo di svegliare le amministrazioni, di consigliare alcuni interventi quasi a costo zero per le amministrazioni e nel frattempo fare in modo che queste attività che vivono nella nostra regione continuino a vivere e che siano anche un segnale di civiltà, perché la piccola attività è un fatto di civiltà, è un fatto anche sociale, perché se pensiamo ai piccoli centri dove si chiudono alimentari le persone anziane, ne sono tanti, non hanno la possibilità di fare la spesa in loco, ma si devono fare chilometri e chilometri per poter fare le loro spese.